Sicuramente ha inventato davvero un assist e Kayakon non poteva sbagliare Il gol del vantaggio, il gol che rianima il Napoli dopo un momento difficile Sì, l'avevi già sottolineato tu nei primi 28 minuti Guain anche fuori dall'area a cercare di sviluppare gioco Non solo Amseg che incontra il centro del pista Vediamo l'uobi